Vado io. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti. Ah, eh, ma anche se i segreti ci vuoi avere. Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri crollari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto, c'ho voglia di scovare. Tante volte puoi essere il T9, eh. Che cazzo dici per te? Diretta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanta stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio, se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non ne so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra. Non c'è ancora niente da brindare, carina. Ma c'è il fatto che qualcuno scova? Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza. Ci stanno portando via il privato. Dio, se hai un amante, non lo voglio sapere. Parla, parla, sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutte rifatte, io senza parole. Dami quel telefono. Dami quel cazzo di telefono! Gioca. Siamo amici da qua, noi siamo ragazzini. Ma ma vuoi dire chi sei? Oh, mi dici da quanto tu una? Riccata. Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. No, non era morto. No, non era morto. No, non era morto. No, non era morto. No, non era morto.